Siete sui canali di LentiCar, automobili per tutti. Nissan NV200 1.5 DCI 110 CV, immatricolato nel 2015, ha percorso solo 63.000 km, è un furgone molto particolare, ha dimensioni contenute e un vano di carico davvero notevole. Andiamo a visionarlo ora nei particolari. Come vedete la tappezzeria è in condizioni perfette, ma passiamo subito all'equipaggiamento, davvero molto ricco, l'impianto radio con presa USB, telefono, presa AUX, poi naturalmente l'aria condizionata che non può mai mancare. Cambio a 6 marce. Qui vedete i chilometri e soprattutto la telecamera posteriore, molto utile nelle manovre di parcheggio. E dal volante potete controllare le principali attività del veicolo. Ed ora passiamo alla parte più interessante, il vano di carico, veramente molto ampio rispetto alle dimensioni del veicolo. Se volete conoscere pesi, misure e portata, andate sul nostro sito lenticar.it E se volete compulsare attentamente l'interno, andate sulla nostra pagina Facebook, troverete le fotografie a 360 gradi. Le informazioni immediate ve le diamo al telefono, oppure mandateci un whatsapp. Grazie, ciao!